Ora, per chi se lo stesse chiedendo, l'Eletrolux è qui, viva il vegeta. Vedete? Pulita. Pulitissima. Abbiamo cambiato un pezzo, aspetta che ve lo prendo se riesco. Venga qui, tutto a posto. Abbiamo cambiato questo qui, perché si era rotto e abbiamo trovato la Castor. Ma io mi sto trovando meglio con la Castor che con lei. Ve lo dico così apertamente. Abbiamo cambiato questo pezzo qui, che sarebbe il blocco porta. Così. Vedete che questa parte coincide? Anzi, è scontato, scusate. Così. Abbiamo cambiato questo perché appunto non entrava più. Non si bloccava. Faceva solo così. Questa adesso... Perfetta. Questo pezzo è rimasto qui a casa mia. Qui c'è l'attacco delle prese, ovviamente. E nulla. Lei è viva il vegeta? Sta bene? Sta bene? Se lo state chiedendo sì, sta bene. E niente. Penso proprio che la porterò in campagna. Però... C'è questo rumore del cestello che non mi convince. Sentite? Non so se si sente. Io non sto toccando nulla, eh. qui purtroppo si è macchiato di galleggina. Non so cosa sia. Mi dicono che si stanno consumando... Sentite? Mi dicono che si stanno consumando... Vedete? Mi dicono che si stanno consumando lo sfere dei cuscinetti. Non lo so. E nulla. Ti rispondo con questo video. Tutto qui, ovviamente. Questa estate poi forse la porteremo in campagna. Comunque... Oggi... Troveremo un'altra posizione per lei. Ciao! Un bacio!